Ok comincia la nostra avventura con Cree Coach! Ciao! Vale! Futura Coach! Pizzica? Eh sì! Troppo zenzero? Troppo zenzero, troppo poco limone! Pizzica? Eh sì! Pizzica? Eh sì! Paragone? Qual è il contrario di Paragone? Eh! Qual è il contrario di Paragone? Qual è il contrario di Paragone? Dai! Marmotte! Sì! 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 Sì!